In voltini autunnali di riso e zucca, vegani e gluten free, arricchiti con del formaggio vegano dal gusto affumicato e cotti nel fornetto pizza, per servire un primo piatto autunnale croccante e delizioso. Una ricetta facile da fare, bisogna avvolgere il ripieno su se stesso con un foglio o carta di riso, anche se non si vedrà internamente dopo la cottura perché è molto sottile e si confonde con il ripieno goloso, ma lo avvolge e lo sostiene perfettamente. Con questo ripieno sicuramente faremo felici, grandi e piccini, celiaci, vegetariani, vegani e chiedi all'energia alimentare o intolleranze come me, al grano, lattosio, uova, mais, nickel, pesce e carne. La carta di riso è la base perfetta per un piatto, dessert o uno spuntino delizioso. Possiamo scegliere il ripieno che più ci piace e la cottura che vogliamo, al forno, in frigitrice ad aria, nel fornetto pizza, ma anche fritta. Ma ora, tutti pronti a mettere le mani in pasta e preparare questi involtini autunnali. Troppo saporito! La ricetta completa la trovi nel mio blog. Incredibile ma buono!